allora ragazzi anche su di voi grava la pesantezza di comunque vincere questa partita dobbiamo cercare di fare anche oggi nove partite con la subday e eguagliare il record di otto vittorie su nove partite allora è contestato come gli ultimi 586 giorni non è assolutamente senso questa cosa ma va benissimo ormai è una corda che non si può più fermare andiamo io appunto al main sul tetto del main non c'è assolutamente nulla c'è gente però è sì ma c'è anche un tac verde quindi di aspetto uno qua morto comunque è veramente incredibile la percentuale in cui mi mette il piccone di marshmallow rispetto al numero di picconi che ho perché non è possibile che ogni due giorni or piccole di marshmallow figa altra gente dove vengo a smicciazzare vengono smicciazzare vengono a smicciazzare quando sono io o dove arriva uno dove dove è easy che sono qua non faccia per favore andiamo e dura a livellare sta season e ragazzi davvero davvero questa quella cosa più brutta di questa season secondo me il fatto del level up e ma anche il fatto di non vedere le schede punti proprio cioè perché si si vedono prima che se poi invece ti compaiono così è una porcata cioè questa non l'ho capita nel senso vado avanti a pescazzare almeno portiamo via cioè non è che perché prima abbiamo perso adesso non dobbiamo vincere nel senso questa è la quarta partita due vinte una persa siamo dati secondi e dovremo anche pensare di spostarci signori e ve lo dico potremmo usare il pesce rift però non lo so che sta con le dita se prova usare quel pesce rift per postarsi senza problemi pesco i pesci rift e lei me li brucia così senza problemi e che cavolo io ne ho già due di quattro di splash qua sul ponte non so se ce lo facciamo mollo uno scildone molli 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 andiamo ok che non arrivo l'ora si non si preoccupi let's go via così ok da me a gente adesso dai gente penso e se siamo indietro adesso è arrivato darà uno buongano di nuovo disabilitato i tir non capisco il perché si vince questa ragazzi si vince non puoi atterrare a pantano e avere la safe a scogliere porco giuda quando ha finito noi siamo che aspettiamo grazie andiamo venga vediamo se c'è il camion snurpe dietro la torri assolutamente cambiamo un attimo davanti non vedo niente nessuno si li sento sono dentro ho sentito una cerchina tant'io e dalla fuori arrivano ci stanno usciando e da solo prendono il pene non sono fortissimi ci abbiamo perso gg proviamo chiudere di regno lei è un pazzo un pazzo è a guardarla otto ragione insomma sì sì direi che non si muova io sto tranquillo eh abbassando tranquillo continuo a sentire passi ma non non ci sono tanto a terra gg se lo faccio a chiudere può provare a venire che c'è dei flopper che glielascio pure un pesce rift così vista sta curando anche lui c'è lui qui è qui è qui è qui è qui è qui fa il giro fa il giro dietro dai ok ci sono i flopper i flopper i flopper i flopper da me i flopper da me calmo ce la fa forse fare il medici si dopo le schede calmo 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 prendiamo tutti i flopper lì uno due l'ultima scheda ok scheda di ennio e andiamo così puoi riftare oppure vanno non ne ho assolutamente idea di dove vado meglio che rifti ok 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 attenzione attenzione è successo qualcosa un momento non siamo sicuri che riesco a restare a foresta sì 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 cercano un cino lì se non c'è nessuno otto persone e cinque team ok otto persone e cinque team ma adesso non torniamo in tredici in dodici vado il reboot di chiudere attenzione la calciata la calciata la calciata stanno succedendo cose che non dovevano succedere andando easy andiamo allora tre quattro cinque sei le persone mi chiamavano face scludere andiamo hai fatto il regalo di compiliano domani faccio gli anni non glieli posso fare adesso gli augs perché vabbè no 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 perché dopo hai capito eh sì sì è stata la grande giocata ragazzi la grande giocata qua grande 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 tutto grazie alle sue pescate adesso assolutamente è vero siamo in set possiamo vincerla molto easy direi assolutamente si può fare si può fare almeno c'è il pump pure test avanza 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 vabbè allora provo a smith erare quattro cinque quattro cinque uno venti p***o una santa blu dai 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 niente oh è qua sotto da me, sotto da me? me lo fate easy vai Marco, vai Marco mi manca uno è scarso come la c***a 2v2 2v2? eh sì miseria, non ci credo non ci credo non ci credo no ci voglio chiedere che struttura ce la fai Marco, ce la fai buono 4 gradi, mese per Andrea, Zosa 19 grande cavallo shooter compagnitare che caso? ce la fai comunque? non sono balinato vinda 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 vabbè tantissimi mazze vai Nike e fatti i scidi se riesci lasciamolo tranquillo lasciamolo tranquillo io cambierei il pump non so te come te la senti? come te la senti? eh questo qua non li sei bello fresh ce la può fare che vuol dire i risparimenti ho trovato quello dietro che ti potrebbe fare il panino bravo 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 bruff bravo bravo da te si grande no no ho visto il canale grazie vai figa let's go Woohoo!